in questo video approfondiremo la nostra conoscenza riguardo il matching operator poi vedremo cosa sono e come funzionano alcuni dei modificatori più comuni ed utilizzati buona visione come abbiamo forse detto qualche lezione fa se si omette l'operatore dell'espressione regolare essa viene considerata automaticamente come espressione di matching infatti l'espressione regolare che potete vedere nel blocco if non è altro che la forma esplicita dell'espressione regolare che trovate commentata a fianco la m che trovate all'inizio dell'espressione regolare è infatti l'operatore di matching difficilmente troverete in giro un'espressione regolare con operatore di matching esplicito in quanto come abbiamo detto il suo utilizzo è implicito se non diversamente specificato tuttavia utilizzando l'operatore di matching abbiamo la possibilità di scegliere dei delimitatori personalizzati per la nostra espressione regolare feature che in alcune situazioni come quella che vi ho proposto nell'esempio può tornarci particolarmente utile per facilitare la lettura e la scrittura del codice detto ciò direi di passare ai modificatori innanzitutto cosa sono i modificatori i modificatori anche detti flag o switch sono lettere che possono essere aggiunte dopo il delimitatore di fine espressione regolare alcuni modificatori applicano effetti particolari al pattern altri invece modificano il comportamento dell'operatore di matching nell'esempio si cerca corrispondenza con la sequenza mario all'interno della perla favorite default e si stampa ciao mario se la nostra espressione regolare trova corrispondenza altrimenti avremo in output i puntini di sospensione quindi se inseriamo mario abbiamo in output come previsto ciao mario benissimo ma se si inserisce mario con la m maiuscola nessuna corrispondenza a quanto pare e mario tutto maiuscolo anche qua nessuna corrispondenza questo accade poiché di default le espressioni regolari sono case sensitive ovvero fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli e questa caratteristica in alcune situazioni può essere un dito proprio lì dove non batte il sole ma fortunatamente esiste un modificatore che risolve molto velocemente il problema ovvero il modificatore i il modificatore i rende l'espressione regolare case insensitive questo vuol dire che l'espressione regolare non farà più alcuna distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli proviamo adesso a rieseguire lo script inseriamo mario minuscolo viene riconosciuto ciao mario mario con la m maiuscola anche in questo caso corrispondenza trovata mario tutto maiuscolo corrispondenza trovata mario con la m e la r maiuscole anche in questo caso corrispondenza trovata quindi come potete vedere la sequenza mario viene adesso sempre riconosciuta in tutte le sue varianti grazie al modificatore i che rende l'espressione regolare case insensitive altro caso altro modificatore nella variabile frase è contenuta la stringa aldo new line giovanni new line giacomo nell'espressione regolare si cerca corrispondenza con la sequenza giovanni qualsiasi carattere giacomo attenzione però il punto come viene valutato all'interno di un'espressione regolare il punto è considerato qualsiasi carattere ad eccezione del new line quindi eseguendo lo script come previsto nessuna corrispondenza trovata poiché tra giovanni e giacomo c'è proprio il new line se si ha come in questo caso la necessità di matchare il new line contenuti all'interno di una stringa il modificatore s è quello che stiamo cercando sostanzialmente questo modificatore non fa altro che sostituire tutti i punti contenuti nell'espressione regolare con la classe shortcut di minuscola e shortcut di maiuscola in modo tale da trovare corrispondenza con qualsiasi carattere incluso il new line infatti se rieseguiamo lo script stavolta corrispondenza trovata poiché il new line a questo giro viene matchato correttamente in questo esempio si cerca corrispondenza tra la stringa contenuta nella variabile pin e la nostra sequenza composta da esattamente tre caratteri numerici ad inizio stringa un qualsiasi carattere tra chiocciola trattino punto esclamativo ed e commerciale ed infine altri tre caratteri numerici a fine stringa se si esegue lo script corrispondenza trovata poiché tutte le condizioni di matching vengono soddisfatte però guardate casino la nostra espressione regolare non è esattamente il massimo in termini di leggibilità pensate a quanto sarebbe bello poter dividere in più parti le sezioni della nostra espressione regolare utilizzando degli spazi senza alterarne il pattern ebbene sappiate che tutto questo è possibile utilizzando infatti il modificatore x annulliamo il valore di tutti gli spazi all'interno dell'espressione regolare essi risulteranno quindi completamente ininfluenti al momento della valutazione dell'espressione infatti se eseguiamo lo script corrispondenza trovata come vedete gli spazi vengono totalmente ignorati se ciò non vi basta grazie a questo modificatore potete addirittura commentare le parti della vostra espressione regolare formattandola come più vi aggrada che bellezza prima di mostrarvi il modificatore successivo devo presentarvi per questione di completezza delle ancore di cui credo non vi abbia mai parlato prima fino ad ora abbiamo utilizzato l'accento circonflesso per stabilire l'inizio di una stringa e il dollaro per definirne invece la fine ma dovete sapere che è possibile ottenere il medesimo risultato utilizzando le ancore a maiuscola per indicare l'inizio di una stringa e z maiuscola o minuscola per indicarne invece la fine nell'esempio per trovare corrispondenza la stringa contenuta nella variabile frase deve iniziare con ciao e terminare con tutti infatti eseguendo lo script corrispondenza trovata guardate un po però cosa succede se si aggiunge un new line alla fine della stringa e si riesegue il tutto stavolta abbiamo in output nessuna corrispondenza trovata perché non trova corrispondenza perché l'ancora z minuscola non ammette il new line alla fine della stringa mentre se si utilizza la z maiuscola corrispondenza trovata perché a differenza della sua forma minuscola la forma maiuscola ammette invece il new line alla fine della stringa ora che sappiamo ciò possiamo fare conoscenza con il modificatore m nell'esempio per trovare corrispondenza la stringa contenuta nella pearl favorite default deve iniziare con ciao poi proseguire con qualsiasi carattere ad eccezione del new line ed infine terminare con tutti se eseguiamo lo script corrispondenza trovata anche se alla fine della stringa è presente il new line possiamo quindi affermare che a cose normali le ancore a 100 circonflesso e dollaro hanno lo stesso identico effetto delle ancore a maiuscola e z maiuscola ovvero stabiliscono l'inizio e la fine di una stringa tollerando tuttavia il new line come finale ora se si aggiunge il punto esclamativo dopo il new line ovviamente non trova corrispondenza poiché il punto esclamativo è adesso l'ultimo carattere della stringa se si utilizza il modificatore m l'effetto dell'ancora dollaro cambia infatti adesso si troverà corrispondenza sia che la sequenza tutti si trovi alla fine della stringa sia che la sequenza tutti sia seguita da un new line infatti se si esegue nuovamente lo script corrispondenza trovata poiché la stringa inizia con la sequenza ciao contiene un qualsiasi carattere ad eccezione del new line ed infine termina con tutti ed è proprio il modificatore m che fa sì che il new line venga considerato come fine della stringa ed è sempre grazie al modificatore m se si trova corrispondenza con la sequenza inizio stringa punto esclamativo fine stringa perché il modificatore m facendo considerare il new line come fine stringa è come se la dividesse in due parti il punto esclamativo trovandosi quindi dopo il new line è come se facesse parte di una stringa a sé stante quindi la sequenza inizio stringa punto esclamativo fine stringa trova corrispondenza è inoltre possibile utilizzare contemporaneamente più modificatori nell'esempio si utilizzano in combo i modificatori x ed s in questo modo annulliamo tutti gli spazi contenuti nell'espressione regolare grazie al modificatore x e inoltre per effetto del modificatore s il punto riesce a matchare con successo il new line riuscendo così a trovare corrispondenza con la stringa contenuta nella pearl favorite default bene direi che per questa lezione è tutto per chi volesse approfondire può trovare il link alla documentazione ufficiale in descrizione con tanto di esercizi un saluto a tutti e a risentirci